non so se vi siete accorti della cosa ma da circa poco più di una decina di giorni si è concluso il mese di marzo e quindi abbiamo i dati relativi a gennaio e febbraio per quel che riguarda la produzione e per quel che riguarda l'immatricolato in tutta Europa per quel che riguarda i camper e le caravan attenzione perché dico la produzione e l'immatricolato perché sono due cose diverse perché oggi si produce per domani quindi il dato di oggi è importante perché ci fa capire qual è la propensione in un futuro molto prossimo ma in un futuro e l'immatricolato perché ci dice ciò che è stato prodotto prima quando è uscito quindi sono due dati di cui bisogna tener conto non si può tener conto solo di uno o solo dell'altro per poter avere una visione insieme bene il dato che ci dice è che in tutta Europa stiamo viaggiando ancora molto bene per quel che riguarda l'immatricolato sia dei camper che delle caravan che vi ricordo lo scorso anno 2017 hanno raggiunto il record storico per quel che riguarda i camper di tutti i tempi per quel che riguarda le caravan degli ultimi 15 anni quindi comunque stiamo parlando di valori importanti detto ciò che cosa ci aspetta il futuro? il futuro ci aspetta un mercato europeo sicuramente in su grossi livelli performerà molto bene siamo certi anche che ci saranno delle flessioni perché quando i mercati crescono troppo poi è giusto è doveroso anzi è importante che ci sia anche delle flessioni con un mercato Italia che tutto sommato tra mille difficoltà potrebbe decollare è quest'aereo che è sulla pista di decollo e tra un po' la pista finisce ma dovrebbe decollare insomma siamo tutti fiduciosi vabbè questi sono i primi dati poi vedremo ah un'ultima cosa avevamo già detto del gruppo Knauss che si è entrato nell'Ipo che è l'anticamera per valutare tutto ciò che può essere un'eventuale quotazione in borsa con oggi sappiamo che c'è un altro gruppo che sta valutando la possibilità di quotarsi in borsa e anche questo direi che è un ottimo segnale un segnale di salute cioè non è il quotarsi per prendere e andare via come succedeva fino al 2008 è successo in molti casi non in tutti ma in molti casi in questo caso si tratta di quotarsi per ottenere sviluppo almeno una cosa dal 2008 l'abbiamo imparata una delle lezioni che abbiamo imparato ciao